Il suo riscatto si studia e si lavora, sempre sotto ogni gatto, la mia generazione prepara il suo riscatto. Le case ci danno polizia, è questa la loro democrazia, vogliamo dire che ci danno polizia, è questa la loro democrazia, abbiamo chiesto di parlare con il Rettore perché non ci dà un incontro, vogliamo un incontro con il Rettore. E' questa la loro democrazia è questa la loro democrazia, non so se ne ringrazio i documenti, non so se ne ringrazio i documenti, non so se ne ringrazio i documenti delle strade, allora potete farlo, che potete fare? ci mettiamo il messico schizia cane ci mettiamo il cibo oh 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 siamo tutti stiamo accredendo in diretta dallo sgombero la polizia sta attaccando gli studenti cercando di impedire di impedire di riprendere la scena fa male la speed è la figura la scena è risposta 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 la scena è risposta